Ciao a tutti ragazzi e bentornati con il prossimo video di Minecraft Io sono Diego Super Emozionato E ragazzi sono super emozionata per fare questo fantastico Perché oggi E già ragazzi lo dico Oggi inizierà la serie Tenevo Inizierà la serie Questi sono i cacciatori dei bambini Ci sarà il bambino C'è la varicchia E c'è la toilet forest Queste sono soltanto le prime mod che io ho installato Perché giorno dopo giorno Le installerò a mano Allora adesso andiamo un attimo E' effetto Ci chiamo night vision Perché voglio andare in video subito Per far vedere un po' di cose Vale una night vision E' vero che ci sono un po' di problemi con ancora Come devo installare tantissimi Tantissimi Veramente tantissimi Vedi i miei modi Non ogni giorno Però Tra un giorno e l'altro le installo Le modi c'è anche Magari dopo Ho finito registrato Questo fantastico video Ho detto In un piccolo modo Qui si Perché E' vero che è Comunque la serie Si è una soluzione Per questa Della gente Un casino La gente Un casino Devo Un momento Un momento E un momento Ok Ok Lo metto così 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 E' un casino ragazzi Molto molto meglio Di quel che pensate Che faccio così Però ci prendo la mano Ma in tal caso Io vado a mettermi Le altre cose Ok Facciamo Ho mostrato tutti Perché Nel primo episodio Diventare vampiri Già ci sta Però Adesso voglio vedere Una cosa Secondo me Muoio Perché muoio Per forza Però voglio provare Lo stesso Per attaccarli Utilizziamo questa tecnica Per attaccarlo Guardate Cioè proprio Voglio Voglio distruggerlo Ok Vado Allora ragazzi Secondo me Michilla Ma io lo faccio per voi Ok Non mi sto uccidendo Mi ha dato un cuore Mi ha dato un cuore umano Ok Che posso mangiare Ma non lo mangio Perché fa schifo Dai ragazzi Solo un vampiro Mangerebbe Un cuore umano E io Devo diventare un vampiro Ma non penso Di riuscirci In questo primo episodio Perché Penso che Anzi Morirò Gravemente Ma tranquilli Tranquilli Se moriamo Non succederà Niente Ok Boom Boom Ok Ragazzi Devo killare Ma inoltre Ragazzi Guardate la figata Allora Devo killare Dopo il boss Dopo killiamo anche il boss Facciamo Uno Due Tre Vieni Ma non è possibile Come scappate Devo fare piazza libera Tu brutto Ecco Mamma mia Quante te ne voglio dare Di botte E stai te Fermi Dove Fa male eh Ragazzi Fa male Andiamo così Guarda Questa 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 Io provo a mangiarlo Non mi ha dato niente Ok Ora devo killare il capo Vado L'ho ucciso Era anche lui Un po' romano Penso che ci serve Quando diventeremo Se diventeremo Un po' romano Oh 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 Fa male fa male Non mi ha dato niente Penso che sia quello che L'altro quadro umano E io non ho più cibo Una Devo farmi subito un rifugio Un rifugio si oh un rifugio perchè vampiri perchè li ho uccisi? sono stupido così mi uccidono i vampiri grazie grazie oh ho trovato la piccola marrone niente cibo no c'ho fame non voglio mangiare i cuori umani c'ho fame perchè non posso dormire? no ragazzi il sole si sta tramontando suate se non ci vedete niente ma io sono morto lo so già il sole tramonta e i vampiri spuntano non voglio morire tante volte non voglio morire tante volte perchè non posso dormirci? non ci vedo niente sto tremando non vale ragazzi lo so ma come prima notte fatemelo fare per favore se no muoio ragazzi se no morivo se no sarei morto subito i vampiri sono troppo forti per me adesso sono troppo forti e poi non voglio ancora farmi mordere non voglio ancora tra un po' magari ci facciamo mordere ma adesso non è ancora il momento allora ho bisogno di tanto cibo e non c'è un animale non è possibile che sono in piena foresta e non c'è uno stupido animale da uccidere in questa maniera questa maniera è difficile perchè secondo me i vampiri possono dare veramente fastidio all'inizio poi è ovvio che proveremo anche a craftare l'armatura dell'infinita però ci saranno un pochino di vantaggi non in quel senso ma nel senso che costruiremo delle super farmer che ce le farmeranno da sole oh 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 io ho forse un cuore umano era proprio buono eh schifo il cuore umano tieni poi non mi ha nemmeno curato i cosciotti sono un vampiro ecco se fossi stato un vampiro mi avrebbero attaccato con un aglio e mi sarei fatto super male però essere vampiri potrebbe essere utile potrebbe essere molto utile essere vampiri potmake potrebbe nooo nooo non nooo non no quanto dura adesso andiamo a costruire una piccola basina così almeno possiamo stare un po' più tranquilli anche più avanti ok c'è stato già un lag a 4 mod io potrei sedermi ma non posso non me lo fa fare vabbè ok cerco di